Innovazione, ricerca, sguardo al futuro ci guidano da più di 35 anni. Siamo protagonisti del mercato nella produzione di serre e nella commercializzazione di impianti e tecnologie per culture protette. Grazie al lavoro in sinergia con i nostri partner, siamo diventati un importante punto di riferimento sia in Italia che all'estero. Ci impegniamo a soddisfare i bisogni dei nostri clienti per rispondere alle peculiarità culturali e climatiche del territorio. Siamo orgogliosi del nostro lavoro e dei benefici che offriamo ai nostri clienti e allo sviluppo dell'agricoltura. Siamo competenza, affidabilità e passione. Siamo EuroProgress.